E' oscillante la curva dei contagi, torna a quota 100 il numero dei positivi giornalieri in città. 363 il numero dei positivi complessivo in provincia e si contano ancora due decessi. Il numero dei guariti è 703, supera dunque quello dei positivi. Restano stabili ricoverati 63 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. La quota dei positivi complessiva in tutta la provincia è quasi di 4.000 quando ci sono state settimane che sono state toccate punte di 12.000.